Il Macerata Opera Festival aggiunge un prestigioso nuovo tassello al cartellone 2013. Oltre alle quattro nuove produzioni annunciate, Nabucco, Il Trovatore, i sogni di una notte di mezza estate e il piccolo spazzacamino del Little Sweep, la 49esima stagione lirica con la direzione artistica di Francesco Micheli arricchisce la sua proposta culturale con una giornata dedicata ad una grande voce nata nel territorio maceratese, Beniamino Gigli, il maestro Micheli. I titoli e le esperienze che noi proponiamo con il nostro festival a partire dal grande omaggio d'amore a Giuseppe Verdi di cui ricorrono i 200 anni della nascita, ma noi per tre anni a Macerata celebreremo questo grande padre. E il tema dei muri e delle divisioni nelle opere di Verdi come Nabucco e Trovatore è un tema grave, pesante, per cui è chiaro che questa nuova lo mettono in scena tutti, ma il Nabucco che facciamo noi non lo fa nessun altro, perché abbiamo il grande muro, emblema della grande tragedia del popolo ebraico che parla di una disgregazione, di una diaspora che anche il nostro popolo da qualche tempo sta vivendo e speriamo di una terra promessa che non ci costringa a trasferirci, ma a realizzare le bellezze e ciò che di buono ancora il nostro paese può dare, che è tantissimo. Anno eccezionale per l'associazione Arena Sferisterio che conferma il dato annunciato tre mesi fa di una stagione con saldo positivo. L'assessore alla cultura della regione, Pietro Marcolini. Il problema di quest'anno poggia su una forte integrazione con altri punti del sistema lirico-sinfonico. Le collaborazioni anche per produzioni internazionali assolutamente inedite, penso in modo particolare all'acquisto di un'opera prodotta da Macerata, da uno stato importante che è l'Oman, e per l'opera che l'ha traviata nell'allestimento di Svoboda, c'è la collaborazione per l'allestimento scenico di un'altra istituzione importante, che è il Pergolesi di Iesi.